Amici avventurieri, oggi vi parlerò del cambiamento del termine da razza a specie in D&D 2024. Questo cambiamento di terminologia non è una novità, infatti dobbiamo andare fino al 1 dicembre 2022 per trovare un articolo su D&D Beyond che ne motiva la scelta. Ma allora come mai torno su questo argomento diciamo stagionato? Ci ritorno poiché sull'argomento anche di recente ho letto varie interpretazioni anche scientifiche lontanissime dalle reali intenzioni di Wizards. Ho pensato pertanto di riprendere in mano un vecchio articolo che anch'io scrissi nel 2022 e di fare questo video in cui vi vado a leggere l'articolo originale e vi do anche le motivazioni originali di Wizards a favore del cambiamento di termine da razza a specie. Ma chi sono io? Io sono Lorenzo, il vostro Dungeon Master Vintage. Da qualche anno gli autori di D&D stanno lavorando per rendere il gioco più inclusivo e rispettoso delle differenze culturali. Ciò forse è conseguenza di quel fenomeno culturale che ha preso piede negli Stati Uniti a seguito del movimento attivista Black Lives Matter, poi naufragato per vari motivi, ma rischio di andare fuori argomento e non lo affronto. Pertanto non è mia intenzione di farvi un'analisi o un trattato sul fenomeno vuoco o sul dei, poiché esulerebbe troppo dalle mie conoscenze e passioni. Voglio invece rimanere su D&D e naturalmente sulle motivazioni di Wizards di tale scelta. Un primo ed interessante tentativo di eliminare alcuni pregiudizi culturali nelle storie di D&D è avvenuto con l'errata della maledizione di Strade, in cui gli zingari vistani, che è un popolo di fantasia ispirato ai gitani per intenderci, sono passati da essere tutti malvagi ubriaconi, ad essere una popolazione, diciamo, tra virgolette normale, salvo alcuni bruticeffi che hanno mantenuto la loro indole malvagia. Ciò non ha cambiato l'appeal dell'avventura per il 99,9% di giocatori, non so ne sono nemmeno accorti, ma forse solo per quel 0,1% appartenente ad una qualsiasi etnia di zingari che magari sia integrata e che gioca a D&D. Questo risultato, anche se microscopico, può avere una grande valenza in effetti per quei giocatori che appartengono ad una qualsiasi minoranza oggetto di un pregiudizio. Purtroppo il rischio di associare i pregiudizi che si possiedono nella realtà ad un popolo di fantasia è sempre presente. Infatti l'utilizzo di stereotipi nella narrazione è efficace in alcuni casi, anche se rappresenta una soluzione pigra. Ma torniamo a noi e andiamo subito all'articolo che ci interessa. Di seguito vi propongo alcuni passaggi. A video trovate il testo originale dell'articolo. Dungeons & Dragons ha una storia in continua evoluzione per soddisfare le esigenze dei nostri giocatori e promuovere uno spazio piacevole a tutti. Con questo in mente comprendiamo che razza è un termine problematico che ha avuto legami prevenuti tra le persone del mondo reale e le persone fantastiche dei mondi di D&D. L'uso del termine in D&D e in altri IP popolari, allora IP sta per proprietà intellettuali popolari, quindi altri marchi, si è evoluto nel tempo. Ora è il momento della prossima evoluzione. Ora queste tre righe affermano da primo al desiderio di rendere D&D un gioco per tutti e questo lo posso anche capire, un gioco popolare, così naturalmente vende di più ed ha anche uno spazio in cui tutti possono trovarci a giocare e naturalmente sono anche contento. Poi affermano che il termine razza è un termine problematico, poiché può collegare i pregiudizi che le persone hanno nel mondo reale con le creature fantastiche che si ritrovano in D&D. Il desiderio è quindi quello di slegare il più possibile l'immaginario fantastico di D&D dal nostro mondo e dai problemi che possiede. Anche se tuttavia non mi chiedo come mai poi vanno a fare tipo un manuale di avventure come la cittadella radiosa in cui all'interno ci sono tutte avventure che sembrano prese pari pari dal mondo reale, in cui hanno preso etnie del mondo reale e le hanno passate nel mondo fantastico. Quindi non so, credo che su questo caso qua ci sia un po' di criticità. Proseguo con la traduzione. Dall'uscita della quinta edizione di D&D nel 2014 abbiamo preso la decisione consapevole di ridurre l'uso del termine razza per applicarlo solo alla meccanica di gioco. Abbiamo fatto un ulteriore passo avanti con l'uscita del calderone omnicomprensivo di Tascia nel 2020 quando abbiamo presentato un'alternativa alla creazione del personaggio che separava i bonus del ponteggio di caratteristica dalla tua scelta di persone giocabili. Qui hanno ovviato al termine razza, hanno detto come persone giocabili. Abbiamo anche evoluto la tradizione dei popoli in tutto il multiverso di D&D per essere più diligenti nell'estrare pregiudizi stereotipi e pregiudizi inconsci nel passato. Allora qui si riferiscono al fatto che con Tascia hanno rivisto la fase di creazione del personaggio eliminando linguaggi fissi, dati dalla razza, velocità di movimento differenti tra le varie taglie e bonus statistiche fisse e tipo di creatura. In un certo senso è l'incarnazione del concetto che tutti possono fare ed essere tutto. Il manuale Mostra del Multiverso ha incarnato in pieno questo nuovo concetto con le razze in esso contenute. Devo dire che la maggiore personalizzazione è piaciuta alla maggior parte dei giocatori, tuttavia ha appiattito uno o più aspetti razziali. Infatti mi chiedo, è corretto che in un mondo fantasy slegato dalla nostra realtà, che dovrebbe essere una valvola di sfogo dalla quotidianità, si ripropongano gli schemi del mondo che conosciamo? Non possiamo interpretare una razza completamente diversa dalla nostra e che non abbia da tener conto di nessuna delle regole del mondo reale? E poi continuo ad esempio, sappiamo che si tratta di un cambiamento importante per D&D che richiede una conversazione aperta con la nostra community. Quindi immagino che se sia una conversazione aperta è probabile anche che possano cambiare idea sul cambiamento di termine. E vogliamo essere chiari su alcune cose mentre testiamo il nuovo termine. Da prima abbiamo preso la decisione di abbandonare l'uso del termine razza ovunque in One D&D, che poi è diventato D&D 2024, e non intendiamo tornare a quel termine. Quindi la conversazione aperta è andata a farsi friggere. Poi il termine specie è stato scelto in stretta collaborazione con molteplici consulenti culturali esterni. Poi nel sondaggio per questo playtest, che andrà in diretta il 21 dicembre, ovviamente qua si sta parlando di due anni fa, i giocatori potranno fornire un feedback sul termine specie insieme a tutto il resto del materiale, però ormai diciamo che il termine specie a quanto pare è passato. E pertanto la scelta di specie al posto di razza non è una scelta tecnica, ma è più che altro una scelta morale. L'articolo si conclude pertanto con il seguente passaggio avere una conversazione aperta sul termine razza e sia importante che stimolante. Sì, ma era già stato tutto deciso. Ecco perché è fondamentale promuovere un dialogo positivo, aperto e comprensivo gli uni con gli altri. E qui insomma c'è un po' di miele che mi cade sulla tastiera. Accogliamo con favore il vostro feedback costruttivo, beh, questo mi pare una cosa positiva, su questa evoluzione e su molte altre evoluzioni di One D&D, o meglio D&D 2024, che rendono questo gioco entusiasmante, aperto e accessibile a tutti. Mamma mia, Draghi e Delphi appartengono al nostro mondo, e anche tu, quindi ne fai parte, beh, insomma. Andiamo bene. Allora, l'uscita di D&D 2024 ormai imminente e la scelta naturalmente del termine specie ormai è storia ed è inutile anche fare polemica su certe scelte che sono state fatte ancora a fine 2022. Pertanto anche a me non piace infilarmi in sterile polemiche assolutamente per nulla e certamente non vado alla ricerca di visualizzazione magari anche per prendermi, che ne so, qualche brutta parola da chi magari invece è completamente d'accordo su questa scelta. Comunque, a pelle mi verrebbe da ironizzare naturalmente sulla scelta. Ho pertanto cercato invece di mettermi nei panni dei creatori di D&D per mantenere un tono un po' più serio. Allora, a me il termine razza non crea nessun problema e non ritengo che sia un termine offensivo utilizzato in questo contesto. Però negli Stati Uniti come viene usato questo termine? Oppure come viene usato in altri paesi? Se da un lato ne capisco le motivazioni, esposo appieno il desiderio di rendere un gioco inclusivo, comunque un gioco per tutti, un gioco popolare che faccia stare tutti allo stesso tavolo, dall'altro temo che D&D stia esportando un problema statunitense nel resto del mondo. Allora, eliminare le parole brutte e le differenze è una pratica di comune uso anche in Italia. Ma ciò contribuisce a cambiare la sostanza delle cose oppure ci rende soltanto un po' ipocriti? Ad esempio, avete presente il termine subnormale che è stato sostituito dal termine handicappato, che è stato sostituito da disabile, che è stato sostituito da diversamente abile perché una persona non si può riconoscere con il proprio handicap, con la propria disabilità, eccetera, tutti discorsi seri comunque interessanti. Rende questo cambiamento di termine meno dura la disabilità? No. Ma dato che il termine è stato abusato nel corso del tempo, ed è stato usato anche in modo offensivo, si è ritenuto il caso di cambiarlo. Ma il problema è che se la società, un gruppo di persone ti vuole offendere, va ad utilizzare dei termini che sono utilizzati per indicare una determinata categoria o cosa. Probabilmente il termine razza, nel contesto statunitense, è divenuto qualcosa a cui si associa un concetto negativo. Tuttavia, mi permetto di pormi questa domanda. Se il termine non piace negli Stati Uniti, fanno bene a cambiarlo. Ma se in qualche altro paese non crea problemi, perché rimuoverlo dal gioco e non lasciarlo ad una scelta di localizzazione del prodotto, ad esempio in italiano, in spagnolo e così via? Inoltre, ragazzi, io temo che certe direzioni aziendali non seguano un autentico desiderio di cambiamento, ma siano frutto di scelte di marketing. Insomma, ho scoperto l'acqua calda. Prendete ad esempio il tema green. Fino a pochi anni fa non si parlava d'altro e le aziende facevano a gara per essere più green di altre. Ora, chi ne parla più? Io ho già espresso questo concetto in un altro video. L'inclusività, ragazzi, la si fa al tavolo da gioco, giocando con tutti. E io vi posso dire che è davvero così. Nel senso che al mio tavolo da gioco e con varie persone con cui ho giocato in questi tanti anni di gioco di volo e anche gioco da tavolo, ho avuto la possibilità di divertirmi assieme con persone diversissime le une dagli altre, senza pregiudizi e senza retripensiero. Ecco, tuttavia, con questi miei ragionamenti non è mia intenzione farvi la morale, ma non ho nemmeno intenzione di riceverla dagli amici americani, poiché quando la morale incontra il marketing, il pensiero muore. E visto come stanno trattando alcune storie, film, serie e tv, direi che è già defunto da un pezzo. Ecco, concludo questo mio pensiero che da D&D 2024, D&D sesta edizione, settima edizione, vorrei un gioco con regole snelle e divertenti da giocare con gli amici e non di certo un gioco che mi faccia la morale. Per la morale ognuno pensi alla sua. E con questo, ragazzi, è tutto. Allora, se vi è piaciuto questo video, fate un mi piace. So che è un argomento un po' di pancia, per cui siate buoni anche nei miei confronti. Insomma, se avete il piacere di esprimere cosa ne pensate, naturalmente ci sentiamo di sotto nei commenti e naturalmente noi appuntamento ai prossimi video. In questi giorni sta uscendo anche su D&D Beyond finalmente l'aggiornamento massimo con D&D 2024. Tra poco arriverà anche il manuale in inglese finalmente tra le mie mani e quindi inizierò a fare anche tutta una serie di articoli su D&D 2024. Allora, continuate a giocare, giocare di ruolo, giocare D&D, giocare con i vostri amici, ragazzi. E al prossimo video. Ci vediamo a tutti. Ciao, 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 ciao.